Finisce nei guai il gestore di un centro di raccolta scommesse privo delle autorizzazioni previste ubicato a Barcellona Pozzo di Gotto. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della locale tenenza di concerto con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Messina. All'interno dell'esercizio sono stati rinvenuti quattro computer e una postazione centrale dove l'esercente raccoglieva le puntate e stampava le relative ricevute. Le fiamme gialle hanno anche rinvenuto una decina di tagliandi di scommesse effettuate. Il titolare del centro è stato denunciato alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo di gioco e scommesse illecito che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e hanno sottoposto a sequestro sia le attrezzature tecniche, ovvero 5 computer e una stampante, sia le ricevute ritrovate. Oltre alla denuncia penale il gestore dovrà rispondere anche di violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio in quanto non aveva ottemperato all'obbligo di tenuta dell'archivio unico informativo necessario all'identificazione dei clienti che giocano o conseguono vincite superiori a 1000 euro. Per violazioni connesse alla disciplina del gioco il proprietario del locale rischia sanzioni amministrative fino a un massimo di 176.000 euro mentre quelle previste per il concessionario e per il proprietario dei quattro apparecchi videoslot possono arrivare a 15.000 euro per ciascun apparecchio di gioco.